Ciao eh? Ciao mo! Che dici? Tutto bene, ma perché tu hai una hit, una cosa che c'ho... Vabbè, tanto... Che è quella cosa, scusa? Che cosa? Ma lei che c'hai là sotto? Che cosa? Tira fuori quella roba! Leva quella mano, tira fuori, tira fuori! Ma allora ce l'hai? Eh vabbè! Ma è da un anno e mezzo che mi stai sempre a scoccare la cosa ce l'hai? Brutta tirchia!